Buonasera e bentrovati all'edizione del nostro telegiornale. I fatti del friulio occidentale in primo piano. 187 chili tra carne, pesce e paste avariate sono stati sequestrati dalla polstrada di Pordenone dopo un controllo in A28 su un autocarro che trasportava alimenti. Il tutto dannoso per la salute se immesso nel mercato è stato distrutto. La polstrada di Pordenone nel corso di specifici controlli sul trasporto di sostanze alimentari ha sequestrato 187 chili di carne e non solo salsicce, pesce e paste farcite che si trovavano all'interno di un autocarro fermato sull'autostrada A28 all'altezza di Porcia. Gli agenti controllando il mezzo su cui documenti risultava un trasporto di generi alimentari congelati e refrigerati di origine animale a base di carne, pesce e derivati del latte da trasportare e conservare tra meno 18 e più 4 gradi, si sono accorti che il termometro segnava più 10 e che la temperatura continuava a salire fino a 20 gradi. A quel punto hanno approfondito la situazione chiamando in causa anche il personale dell'azienda sanitaria del friulio occidentale per gli accertamenti specifici sui prodotti alimentari, riscontrando la temperatura di trasporto non conforme. In particolare su alcune confezioni era presente condensa all'interno, segno dell'iniziale fase di scongelamento del prodotto. Il tutto è stato sequestrato e distrutto. Il conducente del veicolo, un 43enne cittadino moldavo, residente in Romania, è stato sanzionato. Ancora cronaca, una badante moldava è stata sorpresa dalla polizia locale di Pordenone a rubare tra le bancarelle del mercato. In seguito a ulteriori controlli nella casa dove risiede, è stata trovata in possesso di centinaia di articoli e oggetti di cui dovrà spiegare la provenienza. Durante l'attività di controllo del mercato cittadino, la polizia locale di Pordenone è intervenuta lo scorso sabato in una bancarella di abbigliamento chiamata da un commerciante che aveva richiesto l'intervento degli uomini in divisa poiché poco prima aveva subito il furto di alcuni vestiti. Una donna, con fare sospetto, si stava girando fra gli stendini della bancarella, prelevando e nascondendo in una borsa alcuni capi di abbigliamento. L'atteggiamento non era passato inosservato all'occhio attento del commerciante, tanto che la donna, una volta accortasi di essere stata scoperta, ha tentato di fuggire. L'intervento degli agenti dell'Unità di tutela del consumatore giudiziaria, che costantemente vigilano sulle zone del mercato, ha consentito di bloccare l'autrice del furto in flagranza di reato. Dopo l'identificazione della persona, una cittadina moldava cinquantenne, le indagini sono proseguite con le successive verifiche. Gli agenti, coordinati dal PM Marco Fayon, hanno perquisito l'abitazione in cui la donna risiede e lavora come badante. In casa sono stati trovati centinaia di capi d'abbigliamento, utensili da cucina, attrezzi per il tempo libero, cancellerie avarie ed alimenti, da cui provenienza e al vaglio degli organi inquirenti. La cittadina moldava perciò è stata deferita all'autorità giudiziaria per furto e ricettazione e di beni posti sotto sequestro. Spetterà ora l'ufficio di polizia giudiziaria della polizia locale ricostruire il percorso delle verci. Voltiamo pagina e parliamo di coronavirus. Le persone positive in Friuli Venezia Giulia sono 206, 5 in più di ieri. 3 i pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 6 sono invece ricoverati in altri reparti. Non ci sono registrati però nuovi decessi fermi a 348 in totale. Dati comunicati dal vicepresidente della regione con delega la salute Riccardo Riccardi. Dei 5 nuovi contagi rilevati oggi, 4 sono stati contratti fuori regione. Quindi, analizzando i dati complessivi dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus sono 3512, 1433 a Trieste, 1080 a Udine, 763 a Pordenone e 233 a Gorizia, alle quali si aggiungono 3 persone fuori regione. I totalmente guariti ammontano a 2958, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 192. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia. E ci sono ancora molti punti di domanda rispetto al rientro degli studenti a scuola a settembre. I dirigenti scolastici sono ancora in attesa di protocolli certi e visti i continui cambi di direzione si sentono presi in giro. A pesare in Friuli Venezia Giulia è soprattutto la mancanza di risorse aggiuntive di personale che impedisce alle scuole organizzazioni alternative. Il tempo passa, settembre si avvicina ma sopra la scuola italiana pendono ancora grossi punti interrogativi per il ritorno sui banchi. Incertezze che pesano come macigni sulla testa delle famiglie e dei dirigenti scolastici che in questi mesi si sono sforzati di trovare soluzioni, risultati impraticabili, spazi aggiuntivi, lezioni scaglionate o controverse, mascherine, metro di distanza, visiere, banchi monouso. Non sono mancate le indicazioni molto contraddittorie tra loro da questo punto di vista, ci sentiamo anche un po' se devo dire proprio con grande sincerità, anche un po' presi in giro perché parrebbe che alla fine insomma si tornerà in aula, se c'è il metro di distanza va bene, altrimenti si può fare anche senza, basta indossare la mascherina, quindi basta una mascherina sul volto e un po' di gel per igienizzare le mani, insomma i problemi sono un poco più complessi. Il vero nodo però è legato al personale, ata e insegnanti, senza risorse aggiuntive e per il Friuli Venezia Giulia sono vicine allo zero, resterà tutto come in passato. Noi ci avevamo molto sperato, il ministro a suo tempo aveva detto i presidi devono soltanto chiedere, noi abbiamo chiesto ma le risposte che ci sono state date è niente risorse aggiuntive e se non c'è personale cade tutto il resto. Trasporti, un'altra incognita, anzi non è nemmeno tanto un'incognita in quanto è già stato detto anche dall'assessore regionale che non ci sono le condizioni per moltiplicare i trasporti pubblici, ma se non ci sono corsi aggiuntive non c'è neanche la possibilità per la scuola di avere degli orari diversificati. Infine la grana elezioni con aule che diventeranno seggi elettorali dopo pochi giorni dall'avvio dell'anno scolastico. Bisognerà pensarci insomma per tempo prima di scadenze prossime diciamo così per liberare le scuole veramente da questo addempimento perché insomma è un'assurdità come in questa situazione che dopo due giorni dall'avvio dell'anno scolastico già insomma in tante scuole ci si debba di nuovo fermare. E sempre in vista della ripresa della scuola l'amministrazione comunale di San Vito al tagliamento sta lavorando sugli edifici delle scuole dell'istituto comprensivo Margherita H. Sentiamo il sindaco Antonio Di Bisceglia. Stiamo attuando, stiamo realizzando una serie di lavori di manutenzione straordinaria e di adeguamento Covid-19, lavori che interessano tutti i plessi che stiamo portando avanti proprio per far sì che gli spazi così come gli altri elementi possano essere come richiesto per l'avvio dell'anno scolastico. Noi siamo impegnati, lo ribadisco, perché l'anno scolastico abbia a essere ripreso e in settembre, il 14 settembre, possa essere ripreso in presenza in tutto il territorio comunale per tutte le scuole di ogni ordine grado presenti nel nostro territorio comunale. Siamo impegnati in questi lavori che sono riferiti a questo comprensivo perché sono di stretta competenza dell'umore, ma siamo comunque impegnati a seguire questo obiettivo di particolare rilievo. Parliamo di cultura, a Spilimbergo dal 21 al 29 agosto torna il Festival Le Giornate della Luce con focus e mostre sui migliori fotografi del cinema italiano. Per celebrare il ruolo degli autori della fotografia del cinema italiano contemporaneo e nato 5 anni fa a Spilimbergo il Festival Le Giornate della Luce, ideato dall'autrice e regista Gloria De Antoni che lo dirige con Donato Guerra. Quest'anno la Kermes si è spostata dalle consuete date di metà giugno all'ultima decade di agosto, da venerdì 21 a sabato 29, mantenendo intatta la formula tra proiezioni di film in concorso, percorsi espositivi, incontri con autori della fotografia, registi e attori. Si è suggerita la manifestazione e attesa nella serata di domenica 29 agosto l'assegnazione del premio Il Quarzo di Spilimbergo, per la migliore fotografia di un film italiano dell'ultima stagione, l'anteprima del Festival, venerdì 21, è dedicata a quella che è considerata una delle figure più autorevoli della storia del cinema italiano, Cecilia Mangini. Classe 1927, fotografa appassionaria e prima donna a girare documentari nel dopoguerra in Italia, Mangini è autrice assieme a Pasolini di capolavori come Ignoti alla città e la canta delle Marane. A Spilimbergo sarà omaggiata con una retrospettiva al cui centro c'è la mostra fotografica volti del XX secolo, a cura di Claudio Domini e Paolo Pisanelli, che inaugura venerdì alle 18 a Palazzo Taddea. La Cecilia Mangini, regista, sarà invece raccontata con la prima proiezione in esclusiva regionale del suo nuovo docufilm Due scatole dimenticate, Un viaggio in Vietnam, realizzato con Paolo Pisanelli, che lo presenterà con lei venerdì al Cinema Miotto alle 21. Tra gli allestimenti al Festival, attesa anche la mostra omaggio a Gianni Di Venanzio, uno dei più importanti direttori della fotografia del cinema italiano, che contribuì al successo di i celibri film degli anni 50 e 60, come i soliti ignoti di Monicelli o Salvatore Giuliano di Rosi, scelto espressamente da Fellini per otto e mezzo. Un omaggio reso con le foto, per la maggior parte inedite, di Paolo Ronald, fotografo di scena del film. Inaugurazione ufficiale del Festival sabato 22 agosto alle 18 con la proiezione della video intervista, realizzata in esclusiva dal Festival, con Isabella Rossellini, la mia famiglia fotografica, dove l'attrice racconta i suoi rapporti e quelli dei suoi familiari con la fotografia. Siamo allo sport con il calcio, ufficiale del prolungamento di contratto per mister Attilio Tesseri, il tecnico, si aderà sulla panchina dei ramardi fino al 2022. Dalla delusione per un sogno sfumato di un soffio alla carica derivante dalla consapevolezza del grande, grandissimo lavoro fatto nella stagione che si è appena conclusa. Attilio Tesseri sarà alla guida tecnica del Pordenone anche nel campionato 20-21 di Serie B. L'allenatore e il club hanno infatti prolungato di una stagione il contratto in essere, fissando una nuova scadenza a giugno 2022. Un accordo all'insegna della continuità che porta Tesser alla terza annata alla guida del Pordenone. E' sempre il sito del Pordenone a raccogliere le prime parole di Tesser dopo l'accordo trovato. C'è grande soddisfazione nelle proseguire un lavoro e un progetto costruiti in questi anni insieme alla società, allo staff e ai calciatori. Il raggiungimento della semifinale play-off è qualcosa di straordinario, come prima lo erano stati la vittoria di campionato e la Supercoppa. Ora riposiamo, dice Tesseri, e poi ripartiremo con rinnovate motivazioni ed entusiasmo. Per Matteo Loviso, responsabile dell'area tecnica e il progetto sportivo del Pordenone, ha in Mr. Tesser un punto fondamentale di riferimento in campo e fuori. Un progetto che la società ha costruito negli anni con lavoro, programmazione, idee e scelte chiare. Puntiamo, chiude Loviso, sulla continuità per affrontare al meglio le nuove sfide che ci attendono. Insomma, pochi giorni dopo la fine di un sogno, il Pordenone è già pronto a ripartire per rincorrerne altri. E nel giorno della firma di Tesser anche un altro ex allenatore neroverde ha trovato casa. Si tratta di Bruno Tedino che il prossimo anno siederà sulla panchina della Virtus Entella. Il tecnico allenerà i Liguri nel prossimo campionato di Serie B e incrocerà le armi proprio contro il Pordenone. Era questa la nostra ultima notizia per stasera. Si parlerà ancora di calcio e di sport dopo l'edizione del nostro telegiornale con Bianco Nero XXL condotto da Francesca Spangaro e Massimo Radina. L'appuntamento con il telegiornale di Pordenone è per domani sempre alle 20.45. Grazie per essere stati con noi. Buona serata. Grazie per essere stati con noi.